Sono Francesco Carignani, da sempre un grande appassionato dell'architetto Lamont Tiang. Molti conoscono le sue opere in giro per Napoli, le vedono tutti i giorni, pochi conoscono l'architetto che le ha progettate. È per questo che con un gruppo di esperti abbiamo deciso di realizzare un film documentario che racconti la sua vita, i suoi castelli, la sua visione di una Napoli del futuro e la sua misteriosa morte. Grazie a tutti. Se vuoi aiutarci a realizzare il nostro documentario, sostegno il progetto su produzionidalbasso.com e aiutaci a raccontare questa storia.